Tutta, ma in anticipo, per me è giocato da dettagli, ancora a punta, questa volta non trova il giro del passaggio, perché si era grande, il valore del taglio, si era andata al sedicesimo minuto nel corso del secondo tempo, le indicazioni a Spina Zola, il taglio должна arrivare nel settimo ag riporto che un calcio a cuore della pace a spina, ma anche un altro attivo, ma anche un'ottima, un attesa, la grande a parlato del campeo da spritto, ve l'ordine, la mia partita è un partito,